Oggi è sabato, ma ieri, oltre ad essere usciti i Toz Ultimate, dai quali andremo a trovare tutti quanti i vari Sommer e compagnia cantante nei nostri pick, è iniziata anche la nuova stagione, che ci mette dunque a disposizione un po' di carte gratis, che come al solito vi metteranno in una profonda crisi. Quindi ce le andiamo ad analizzare molto rapidamente e poi andremo a dare anche uno sguardo alla versione che è uscita di Mertens, che a mio parere, insomma, risulta essere molto appetitosa, poi andremo a vedere nel dettaglio. Nei primi livelli abbiamo, insomma, un po' di carte così, il buon Pirlo in prestito, il buon Digno Moments in prestito, Arrivati al livello 15, invece, abbiamo già una situazione che si fa già più complicata per voi, perché iniziano ad esserci ste carte esotiche che vi fanno battere il cuore. Il primo è sto Gil Dias, che è abbastanza valido, se vi devo dire la verità, 4-4, piede sinistro, veloce, veloce, buona potenza tiro e finalizzazione, buon passaggio corto, molto meno in lungo, freddezza ambigua, Agilità 93, equilibrio 81, reattività 82, forza 80, lo rendono però non propriamente il più agile dei giocatori palla a piede, quindi, insomma, ruolo consigliato magari da Super Sub l'esterno, non vi sognate di poterci fare grosse magie con questo Gil Dias, perché, insomma, lascia un po' il tempo che trova, però sicuramente meglio Gil Dias del buon Sub B4-4, ma che, come potete vedere, ha 77 di freddezza, quindi questo da Super Sub è proprio da evitare come la peste, nonostante magari possa risultare levemente più agile di Gil Dias, anche se comunque ha 74 di reattività, quindi anche lui un po' ambiguo, sicuramente molto veloce, buona potenza tiro e finalizzazione, passaggio corto buono lungo meno, ma comunque, insomma, tra i due al momento vince il buon Gil Dias, ultimo è sto terzino Miranda, che, insomma, 2 di piede debole di mostrabilità e 3 di piede debole, 80 di freddezza da evitare, veramente anche lui come la peste, quindi se vi devo consigliare un giocatore all'interno di queste possibili scelte, vi dico Gil Dias, assolutamente. Andando avanti, poi, insomma, vedete qui i vari pacchettini, Maradona, Esultanze e Cringe, fino ad arrivare al livello 30, dove innanzitutto la grossa premessa da fare è che chi riesce a fare il livello 30, arrivati a giugno, probabilmente merita un premio alla carriera, perché veramente ci vuole coraggio, però si ritrova la possibilità di poter scegliere tra dei giocatori abbastanza esotici. Il primo è Gabriel Jesus, che, per carità, non male, però tre piede debole, sapete che lo pongono fuori dal meta sicuramente per quest'anno, buoni parametri di velocità e accelerazione, buona potenza tiro e finalizzazione, buono passaggio corto molto meno e lungo, agile, sicuramente agile, ma, insomma, il tre piede debole lo rendono sicuramente un giocatore non da attaccante, soprattutto in un attacca a due, perché, insomma, se andate sul piede mancino, poche volte ve la butta dentro, quindi da scartare. Simpatico, per modo di dire, sto matuidi, che 2-2 lo rendono praticamente un troncone, solamente il cdc, però, con i piedi fucilati può fare. Sicuramente ha avuto un bel boost in velocità, sicuramente c'ha delle ottime statistiche di passaggio, sicuramente c'ha delle ottime statistiche di agilità, equilibrio, reattività e forza, e ottime statistiche difensive, magari vi può dare la possibilità di andare a linkare, che ne so, un cr7 tots piccato, trovate uno scambiabile, magari ce l'avete, o dall'altro lato c'avete un bambè, non volete mettere un icon, mettete sto bambuidi, volendo ci può pure stare, però calcolate che c'ha mosse abilità e piede debole totalmente cannate. L'ultimo giocatore è sto Draxler, che forse, guardato così, risulta essere quello più sfizioso, 5 mosse abilità, 4 piede debole, buona la velocità, buona la potenza tiro e la finalizzazione, ottimi passaggi, agilità 89, equilibrio 83, reattività 90, e forza 88 lo rendono un tronco, perché nonostante abbia dei buoni parametri, perché sia per body type che per forza viene parecchio appesantito, ricordo che Olly lo provò all'epoca, la versione che uscì, mi pare, quella Halloween, e se ne è pentito amaramente, quindi, insomma, sto Draxler sì, ma anche no, probabilmente se dovessi io andare a scegliere all'interno di questi giocatori, forse andrei più a prendere, che so, per i motivi che vi dicevo prima, Matuidi, oppure Jesus, ma ad usare da Super Sub, in ruoli esterni. Per quanto riguarda, invece, il buon Mertens, che è sicuramente il big boy della serata, perché sto Maia lo ricorderemo solamente per essere stato un meme del canale a lungo, perché ha, insomma, tre mosse abilità, tre piede debole, da ATT, insomma, lo possiamo anche bypassare. Questo Mertens versione 91 lo scarterei, perché a quel punto vi andate a fare piuttosto lo shapeshifter che è scambiabile, e andrei direttamente sulla versione 95, che a parte l'esultanza assolutamente epica che vedete nella foto, che già meriterebbe quello di essere sbloccato, vedete, 1,69m, 4,4, ha anche ottime statistiche perché è super veloce, ottimo potenza tiro e finalizzazione, anche perfette le statistiche di passaggio, agilità 99, equilibrio 99, reattività 95, e il controllo palla 96 e dribbling 99 lo rendono sicuramente nascheggia, palla al piede, super agile, quindi ruolo consigliato per il buon Mertens, sicuramente punta in un attacco a due, ma anche da esterno magari utilizzato alla Messi come lo uso io, potrebbe dire la sua. Certo, il costo non è basso, però per chi ha una Serie A sicuramente è una buona opzione, sicuramente arrivate a questo punto del gioco, avete tanti pick e tante cose da poter sacrificare in questa SBC, e sicuramente potete andarlo ad abbassare questo costo di Mertens, che vi ripeto, farei più di un pensiero se sbloccare o meno, tra l'altro non dovrebbe neanche scadere, esatto, non scade il buon Mertens, quindi ci avete tutto il tempo del mondo, magari siete pure fanboy del Napoli, che popolate le nostre live e i nostri video, quindi sicuramente avrete intenzione di andare a provare il buon Mertens in coppia, con Maradona ed Insignia, già vi conosco, quindi vi posso dire che ci sta tutto sbloccare il buon Mertens, è una bella carta. Quindi raga, per questo video è tutto molto molto rapido, abbiamo analizzato al volo sti giocatori, io vi saluto, vi do appuntamento in live ogni giorno, e vi ringrazio per la visione. Peace.